Angela, dai, è tutto, devi alzarti, non puoi stare a letto tutto il giorno, dai, poi andiamo a mangiare fuori, eh? No. Ma dai, allora vado a fare la spesa e compriamo quel vinello buono, il lambruschino, il paticuccio. No, no, che si spende, no, no. Dai, eh, eh, ma... No, no, non si può. Hai sentito, te l'ha detto vero il commercialista? Cosa? Che c'è la sanatoria delle tasse. Sarebbe. Eh, sarebbe che quest'anno non sono più da pagare le tasse. Eh? No, ma le hai pagate tu? No. Eh, non sono da pagare. Veramente? Quest'anno c'è la sanatoria e anche la... l'Imu, l'Imu non... E l'IVA? L'IVA te la restituiscono. Devo arrisconare. Sì, andiamo a ballare. Eh, andiamo a ballare. L'IVA la restituiscono. Anche la tasca non è più da pagare. Cos'è la tasca? Non lo so, dai. Però non è più da pagare. Non è più da pagare. Terima, ciao. Grazie. Grazie a tutti.